E qua è storia C'è da dire che hai passato su due minuti, un minuto e cinquanta in quel c***o di Anconi Clippe ne avete fatte? Ne vedo pochi di clip in chat ragazzi Te ne puoi avere ancora uno per sicurezza No, ma? Cosa è successo precisamente? Non avete visto niente, è crashata un po' la connessione L'ho scacciato raga, l'ho scacciato sentì Perché ho visto una mosca tipo in bocca? Non esprimerò troppo giubilo per aver sconfitto XQN La motosega, posso avere la motosega? Dai, perché non la motosega? T'ho paura Belente la dà se urli forza Inter, che si fa? Forza Inter! Tu X-Pro spazzati, eh? Spazzati, spazzati Mi sono spaventata, ma non me l'aspettavo Praticamente, se mai doveste trovarvi a fare una live, che volete fare il streamer, non lo so Qualsiasi occasione della vita, e la vostra merenda Questa, una banana L'unico modo Non siamo Un po' ceba Buona comunque Posso essere la tua banana? Bambule, bambule, ciao Ciao guys Grazie Fatti no Questa è l'ultima cosa che vedi quando arrivo col musty C'è un po' ce che si può fare Oddio Beccati questa, svim Vabbè raga, ora facciamo una cosa, che ti devo dire Svim, double touch, svim È facile, a dormire Wow, non stanno molto clean Ma come Bro Bro Non c'è chi non ha E che pane Bisellino 23, mi ha ucciso Così Come va ragazzi? Benvenuti, buona domenica a tutti Se siete appena entrati in live e vi siete persi Uno spontaneo impressionante Nel cespuglio e il frigorifero arancione Che poi free di finestra nel Pandora, no? E questo capita sempre quando humble Raga, no, 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 lo sento, io lo sento Vado di qua, va qua Raga, beccatevi sta giocatore scorsese Ha beccato da tutta Il king Sbing Il blood Mi stanno sparando nel back No, mi scliccato ragazzi Pescatore, no, non ti nascondere lì dietro Vieni qui, dove vai? No, no, vieni Più attaccato alla torre, vieni qui Dai Oh 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 my goodness me What beautiful Impeccable timing Raga dove sta? Dove siete? È stato un momento in cui ho visto della roba bianca davanti ai miei occhi E ho detto Non vedo, ciao Raga, si opera Centro di boost Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Raga, penso di essere comunque la persona più forte del mondo ma con questo non c'è dubbio Non c'è mai stato alcun tipo di dubbio Ragazzi come c***o sto difendendo? Io non ci posso credere Ve lo giuro non ci sto credendo che sto difendendo E poi metto la schema da Beppai Lago ovviamente non è qui Mamma mia Oh oh pacchettino, pacchettino, pacchettino Non avevo dubbi Non avevo dubbi Che sarebbe stata una me Ci sono Grazie a tutti